Ciao, io sono Beatrice Levorato, la curatrice della mostra Fuga in Magenta. Questa mostra vede come protagonisti tre artisti. Abbiamo scelto di farli comunicare attraverso il colore appunto magenta, che è un frutto di stratificazioni di altri colori, che in qualche modo va a riprendere anche un po' la loro tecnica pittorica, che appunto sono stratificazioni di disegni, gesti e di ricordi anche. Ciao, sono Lorenzo e Montessicuro è la mia opera per la mostra Fuga in Magenta. Ho cercato di esplorare questo colore, raccontarlo dal punto di vista poetico e profondo, in tutte le sue modulazioni. È una veduta che parte dal dato reale e quindi in un certo senso figurativo, ma diventa in qualche modo evocativo. Sono Giulia Di Pasquale, questa è la mia opera dormiente, che definisco un po' come un paesaggio astratto, che nasce attraverso stratificazioni di colore, da cui emerge la figura umana, appunto di un dormiente. Diciamo che questa tela per me è stata un po' una sfida, perché non avevo mai realizzato tele così grandi, ma è stato davvero molto utile ed ispirazione. Ciao, sono Federica Griesi e la mia opera si chiama Realtà Profonde. Diciamo che ha una doppia valenza, sostanzialmente da una parte vuole parlare del nichilismo e comunque della difficoltà che hanno i giovani d'oggi, e dall'altra parte invece ha una svolta, diciamo, della sensazione, in quanto voglio parlare attraverso delle forze invisibili che si trovano nei miei quadri, ma che si percepiscono. Questi tre artisti appunto comunicano, pur essendo molto diversi, grazie sia alla tecnica sia agli argomenti, ai temi trattati, che sono molto sensibili e soggettivi.